Musica Bella a tutti ragazzi, bentornati nel third channel, io sono Drapunici e bentornati in questo nuovo video della tecnologia 3 Allora oggi dobbiamo craftare altri asset di questi qua di farm block Allora, innanzitutto mangiamoci una mele, che è fondamentale, le mele fanno bene La mattina una buona colazione composta da mele è l'ideale Allora, i stone brick ci abbiamo, dobbiamo farci tin electron tube che si fa col tin e la redstone Quindi abbiamo bisogno di un po' di redstone, vabbè di redstone ci prendiamo uno stacchetto E di tin non ci prendiamo uno stack, questo è sicuro Ma ce ne prendiamo così, va bene anche così Poi, questi ci serviranno sicuro, perché già lo so Poi ci servirà il vetro Ecco qua Questi forse ci serviranno E, e, e Credo, basta Sì, andiamo su Dobbiamo preparare quei cosetti, fare altri farm block Ah, poi dobbiamo andare un attimo lì sotto A controllare delle cose Ah, già sta collegato tutto, perfetto Allora, aumentiamo il coso e facciamo com'era il crafting Vediamo un attimo Eh, no, questi qua si fanno, vabbè col vetro lì E i tin qua Perfetto Facciamo così Un po' di meno Facciamo così Ce ne servono altri sette di questi Questi ne fanno quattro alla volta, quindi ci servono due Perfetto Così e così Due E due Perfetto Qua, ah, qua non ci sta energia Ecco perché non parte Qua ci sta del carbone Qua ci sta, qua ci sta No Eh, il carbone non l'abbiamo preso Andiamo a prenderci giù un po' di carbone Ok Bastano sei, sì A voglia Eh, da qua non ce la faccio Dobbiamo risalire Olè E mettiamo a fare un po' di queste cose qua Qua intanto finché si prepara tutto C'è tempo Il vetro ci sta Andiamo Eh, andiamo un attimo lì sotto E dobbiamo controllare una cosa Tanto che lì si fa tutto Qua vabbè E zeppo zeppo di olio Che dobbiamo ancora vedere cosa farci Allora, queste qui Fanno infucare tutto ciò che ci sta intorno Però se io vado a vedere in acqua Il problema non ci dovrebbe stare Mamma mia Allora, vediamo un attimo qua Cosa ci fanno fare Fire Firestone Devo fare Stone Oh Fire Cracket Firestone Firestone ore Si fa con Raufa Ah, rock Crusher Oh Figata Rock Crusher Eccolo Opa La maronna Block of steel Di Ah, ve lo si potrebbe fare Ah, multiblock No Ragazzi, allora Appena finiamo la farm E tutto Ci facciamo il rock crusher Si, per forza Però intanto abbiamo scoperto Cosa possiamo farci Spegniamo tutti i fuochi Qua Ehi, spegniti Questa è la nostra cava di sabbia Ottimo, ottimo Quindi ci serve il rock crusher Lo mettiamo qua a fianco a questi E' un multiblock E facciamo tutto Allora, oggi dobbiamo finire i crafting E E Finiamo di posizionare il tutto Sulla farm E poi dobbiamo ancora attivarla Quindi Credo al massimo un altro episodio E poi è finito Allora Saliamo su E andiamo a prenderci le cose Dopo dobbiamo andare a controllare anche il query Ok, me ne hai fatti otto Qua il glass, lascialo Lasciamo un pochino Ci serviranno ancora Ora Dobbiamo andare a prendere Per i farm block Farm Block Block Sono staccati Però qua non posso Per forza cancellare Farm Block Perfetto Eccoli qua Perfetto Abbiamo bisogno di fare slab E prenderci altri stone brick Allora stone brick Ce ne servono Otto Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Sette Anzi non otto Sette Di slab ce ne servono Sette, sette Quattordici Quattordici Ce l'abbiamo Perfetto Quattordici slab E quattordici di questo Di tin Ne abbiamo Uno, due Ah Tre, quattro, cinque, sei Sette Uno, due, tre, quattro, cinque, sei E sette Ok Ora facciamo così E voilà Quindi si fa così 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 E così Perfetto Abbiamo fatto I nostri sette Farm Block Allora lasciamo le cose che non ci servono qua Tra cui Ah no Le mele ci servono e come La redstone E questo Lo possiamo rimettere a posto Questo sta qui La redstone sta qui E Però prima di andare lì Dobbiamo controllare un attimo il query Se ha finito A che punto sta Perché da tanto che non ci vado Dobbiamo occuparci un po' di giardinaggio Anche perché Per il completamento della farm Ci vorrei impiegare Un altro episodio Diciamo Più completo Perché farla a tratti Quest'ultima parte che mi manca Secondo me Non ha senso Infatti uscirà un po' più lungo Adesso questo qua È un episodio mezzo preparatorio Se non uscirebbe già troppo lungo Perché Abbiamo fatto crafting e tutto E dopo un po' Potrebbe annoiare A me no Però a voi sì Quindi adesso facciamo un po' di giardinaggio E poi andiamo a piazzare Quindi così O poi mi raccomando Facciamo così Lasciatemi Tanti pollicioni in su Per farmi sapere Se lo volete In questa settimana Direttamente un secondo episodio Della tecnologia 3 Dove andiamo a completare la farm Anzi O nei commenti Oppure con un pollicione in su Fatemelo sapere Così io So se registrare anche la seconda parte In settimana Oppure preferite vederla La settimana prossima Quindi A voi la scelta Facciamo così Così sarete proprio voi A decidere Quando e come Perfetto E poi se preferite Che faccia un video unico Oppure lo spezzetto un po' Allora intanto Vediamo qua Il query per ora Sta funzionando Ma mi sa che Non sta scavando ancora Allora Shiftiamoci Ok La miseria Che grossa Questa pezza qua Ah vabbè Qua ci sono questi qua Che ho messo io Solo in uno Li ho messi Però Tutto sommato Va bene Perché così Potevo fare tutto prima Ho messo Deciso di metterci Del coal Coso qua Un giorno mi sono messo Ho preparato tutto E ce l'ho messo Questi semini Non ci servono Perché abbiamo Tagliato tutto quanto Per bene Adesso Andiamo un attimo su A piazzare Questi ultimi pezzi Ok Voilà Allora Dov'è la farm? E qui sotto Dovrebbe essere questa Qui sopra Opla Facciamo così E la mettiamo qua Allora sono Uno, due, tre Quattro, cinque, sei E sette Perfetto Allora Abbiamo completato Diciamo Una parte fondamentale Della farm E adesso Dovremmo solo azionarla Però Faremo il tutto Nel prossimo episodio Allora Adesso invece Siccome Abbiamo ancora Facciamo qualcos'altro Non mi va di chiudere l'episodio Sennò poi È veramente troppo corto Ci buttiamo Innanzitutto in acqua Poi Facciamo così Dobbiamo risalire da qua Ciao squid Oh Da là Così Anche se l'estetica Della nostra casa Non è delle migliori Però Tutto sommato Ci possiamo accontentare Allora Mettiamo tutto quanto qua Le panini qua Le canne da zucchero Qua Allora Queste le portiamo qua Queste qua E per noi Di diamanti Quanti ne abbiamo Innanzitutto Uno Oddio Quindi per fare Il rock crusher Sono Non bastano Perfetto Allora Aspettate Dovevo trovare Una cosa Che volevo farmi vedere Che la volevo craftare Allora A parte Vabbè Qua le spade Ste cose qua Le cose tagliate Dovrei avere Vediamo un attimo E in effetti 106 pagine Non sono poche Questo qua Ha La tuta Per fare Per andare Nelle centrali nucleari Credo Però non è quello Che cerco io Dov'è 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 Dove sei Ah il tavolo Da lavoro Per Un spettacolo Ah No io dicevo Il tavolo da lavoro Non mi ricordo Però come si chiama Per questi qua Che sarebbe La power armor chestplate E quella lì Dobbiamo farla Tra un po' Ah Ma dopo Sta Tutti questi Mamma mia Quante cose Che ci mancano Da fare comunque Mamma mia Uh Occhiali Chili Tree produce What No Le granate No Dobbiamo provare A farci qualche granata Nido Nido Brown Conventional Grenade La portal gun Ah con la nether star Quindi dobbiamo andare il prima possibile a sconfiggere il wither Che la portal gun Io la voglio La voglio assolutamente Poi qua che ci abbiamo Adesso guardiamo Plastic bag Ma il cacchio Oh My God Broken shovel Scuba tank No Per andare sott'acqua E star citando Gas mask No Guardate quante cose Che dobbiamo fare Ancora qua L'arco elettrico Uh Ah eccolo qua Il paxel Mamma mia I cavetti Vabbè le solite cose La lente di ingrandimento Devo La lente di ingrandimento La voglio fare Facciamola Allora Stavano gli stick Le stick Non li vedo però Facciamo così Oppela Allora Ho 1,2 16 Stick E cosa serve? Cioè Annulla Vabbè Impazionante Ah Trackman Googles Ah L'ender Vabbè L'ender chest Mi sa che non abbiamo L'ender pearl Perché comunque L'ender chest A me Mi sarebbe tanto Aspettate Ce l'abbiamo L'ender pearl Ender Ender Chest Come si faceva? Ah Due ossidiana E uno di questi Ah I blades Ce l'abbiamo Ah Uno ne abbiamo però Però non abbiamo Ne Abbiamo i fuochi Quindi stiamo a posto Facciamoci Facciamoci l'ender chest E l'ender punch Allora Due di ossidiana L'ossidiana Io mi ricordo Che ce l'avevo Ne avevo quattro Uno Due Tre E quattro Mi serve tutte e quattro Allora Facciamoci questo Ender chest Sì Ok Allora Ender chest Allora Innanzitutto Facciamoci una chest Normale E già ce l'abbiamo E poi basta È pronta Ah la lana La lana La lana Dovremmo averla Un po' di lana Uno solo Vediamo se basta Vabbè male che va Abbiamo un po' di filo Che Un'altra lana Ce la fa sicuro Anzi no Altre due lana Allora Perfetto Andiamo qua E facciamo così Perfetto Chest Lana Ender pearl Devo farmi altre cose Perché Comunque Il post La usiamo inizialmente Almeno come borsa Non mi ricordo Come si facevano Gli stecchini Con i blades rod Così No Così R Gli stecchini Eh no Gli stecchini Come si craftano Aspettate No no C'era un modo Per craftare Gli stecchini Me lo ricordo io Vediamo Oddio Come si craftavano Questi qua Eh uno di questi Da questi E Ah quindi Non si possono craft No no Vedete che Non posso craftare Questi E invece Il fuoco Questo qua Vediamo un attimo Tutti i crafting Di questo qua Allora Così fai l'ender punch Non è il problema Dell'ender punch Devo solo capire Come si fanno Ah quindi Da questo qua Io non posso farmi No Cioè non mi posso fare Ah ecco Ulverizzare gli stecchini Mi esce questo Ma io mi ricordavo Che valeva anche il contrario Ah strano Vabbè ragazzi Ditemi come si fanno Se si poteva fare L'ender 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 Il blaze rod Con Il blaze powder Quindi Fatemi sapere Se volete In questa settimana Un altro episodio Dove finisco la farm Quindi mi ricordo Di mettere mi piace Iscrivervi e commentare E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti